Al tempo del coronavirus gli amministratori locali si trovano nella condizione di dover operare in una situazione di emergenza, quindi una situazione nella quale bisogna rispondere a tanti bisogni, a tante paure, a tante situazioni di incertezza prendendo delle decisioni delicate in pochissimo tempo. Oggi, oltre ai problemi di salute, che è la prima esigenza che siamo chiamati ad affrontare e a cercare di rispettare e far rispettare le regole del lockdown, quindi è importante restare a casa fino a che il numero dei contagiati non sarà sensibilmente calato, ecco, oltre a questo problema gli amministratori locali devono affrontare non una situazione nuova, che è la presenza delle mafie sui territori, anche in Emilia Romagna, in alcuni territori, ma devono affrontare un pericolo serio, attuale e concreto che i nostri servizi di sicurezza prima e il Ministero dell'Interno poi hanno ufficializzato anche in documenti resi pubblici qualche giorno fa. Il timore cioè che, approfittando della situazione drammatica del coronavirus, le mafie non solo possano continuare ad essere presenti sui territori, ma addirittura possano espandere la loro presenza, in particolar modo nell'economia, in settori come quelli della ristorazione, del trasporto, della sanità e di tutto ciò che grava attorno a questo comparto, prendendo di mira soprattutto la piccola media impresa. È inevitabile che le misure restrittive, doverosamente restrittive, che sono state prese per affrontare l'emergenza del coronavirus metteranno in grandissima difficoltà tanti piccoli e medi imprenditori. Dobbiamo assolutamente evitare che queste persone che hanno creato le loro imprese con tanto sacrificio, con tanta competenza, con tanta passione, rischino di chiudere. E peggio ancora non dobbiamo permettere che gli imprenditori sani possano essere tentati, magari con l'aiuto di qualche libero professionista, complice, connivente, con le cosche, di andare a cercare capitali al di fuori dei circuiti legali. Allora è molto importante per i sindaci stare attenti a quello che succede sul loro territorio, avere assolutamente un dialogo con le categorie produttive, avere un dialogo con i sindacati, con i lavoratori, tenere le antenne molto alte per capire chi vuole andare a investire in un determinato territorio. Un'altra situazione che gli amministratori locali devono affrontare, soprattutto nel mezzogiorno, è quella del welfare mafioso, cioè quello per il quale le cosche abbiamo visto in Campania, in Puglia, in Calabria, in Sicilia, banalmente fanno la spesa per le famiglie più bisognose, danno mascherine, offrono soldi e l'obiettivo è quello di acquisire consenso sociale, perché se si acquisisce consenso sociale ci si garantisce anche come criminali quel clima di omertà che permette alle mafie di agire con più tranquillità cercando di espandere i loro affari. Alcuni di queste situazioni possono anche sfociare strumentalmente alimentate dalle mafie in assalti per esempio ai supermercati, in sommosse e storicamente la mafia ha sempre fatto questo, prima sobillato e poi si è posta come una forza in grado di garantire la sicurezza quando lo Stato non era più in grado di farlo. Allora la situazione sociale è difficile, oggettivamente difficile che si respira in diverse zone del territorio, insieme alla situazione economica che si sta complicando non ci devono assolutamente scoraggiare ma ci devono vedere lucidi, presenti e capaci di agire con estrema responsabilità. I sindaci e la rete di avviso pubblico lo testimonia da quasi 25 anni ci sono, l'importante è che non siano lasciati soli perché un rischio che si corre è anche quello di essere minacciati, di essere intimiditi e noi con il nostro rapporto amministratori sottotiro da nove anni lo testimoniamo. Le minacce e le intimidazioni verso gli amministratori locali già a partire dal 2008-2009 quando ci fu la prima crisi proveniente dai mutui subprime degli Stati Uniti che ha portato e ha contribuito a portare povertà e a creare disuguaglianze, ha anche aumentato la rabbia sociale, la cattiveria per usare un termine del census, verso gli amministratori locali. Quindi non lasciamo solo gli amministratori locali, operiamo per stare vicino a loro e mettiamo gli amministratori locali in una rete insieme alle prefetture, alle categorie, alle associazioni. È come è stato detto necessario operare come una squadra, siamo tutti nella stessa barca e nessuno si salva da solo.